Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina ad un video del corso di computer base per principianti, anno 2020-2021. Bene, in questo video ci occupiamo di una cosa importante, delle finestre. Saper utilizzare bene le finestre, ed è piuttosto semplice, quello che sembra non semplice è ricordarsi poi in seguito come fare, aiuta molto a riuscire a gestire il computer e a fare le cose con il computer. Quindi cerchiamo di imparare ad utilizzare bene le finestre. Ok, vediamo quali sono queste finestre che noi possiamo utilizzare con il nostro computer. Tutte le volte che io utilizzo qualcosa, quindi il cestino ad esempio, sappiamo che per utilizzarlo in questo caso ci serve un doppio clic col tasto sinistro, lo faccio. Tutte le volte che utilizzo qualcosa, dicevo, si apre questo quadrato. Questo quadrato, questo rettangolo, è una finestra. Quindi imparare ad utilizzare al meglio le finestre, queste schermate, questi spazi che si aprono quando noi utilizziamo qualcosa, ci aiuta a usare bene il computer. Tutto ciò che noi facciamo con il computer è sempre contenuto da una finestra. L'unica cosa che non è contenuta da uno di questi contenitori è il desktop, la nostra schermata principale. Sappiamo già che per chiudere la finestra dobbiamo andare sulla X e fare un clic col tasto sinistro del mouse. Quindi andiamo a chiudere la nostra finestra. Premo e la finestra si chiude. Windows, che significa finestra in inglese, deve il suo nome proprio perché tutto ciò che utilizziamo avviene all'interno di una di queste finestre. Bene, allora cerchiamo di imparare bene come si utilizzano. Abbiamo aperto poco fa la finestra del cestino. Proviamo adesso ad aprire la finestra documenti. Premo due volte su documenti ed ecco che si apre nuovamente lo stesso rettangolo di primo, la finestra di Windows e questa volta è la finestra di documenti. Quindi quello che vedo cambiare è ciò che c'è al suo interno. Quindi qui dentro adesso ci sono cose differenti perché questo contenitore è un contenitore diverso da quello di prima. Tutte le volte che noi apriamo una finestra e quindi utilizziamo qualcosa nel nostro computer ci viene segnalato. Giù sotto, qui sulla barra delle applicazioni, si illumina qualcosa. Diamo un'occhiata. In particolare questa è la finestra dei documenti. Ora so che è la finestra dei documenti perché l'ho appena aperta. Ma se io mi fossi seduto a computer e trovassi questa finestra già aperta perché il computer era utilizzato da un'altra persona, come faccio a sapere di quale finestra stiamo parlando? Qui in alto nella barra del titolo c'è sempre indicato il nome della finestra che stiamo usando. Quindi documenti mi informa che sto guardando in questo momento la finestra documenti. E in conseguenza di ciò, dicevo, il computer mi avvisa di questa cosa. Sotto sulla barra delle applicazioni si illumina un qualche cosa che mi sta a segnalare che una finestra è aperta, è in utilizzo. La vedo e quindi non c'è bisogno che me lo segnali. Però in realtà io posso utilizzare nel mio computer finestre anche quando non le vedo. Ad esempio in questo caso io ho illuminato questo simbolo tondo, c'è una piccola riga azzurra sotto che mi fa capire che questo simbolo, che questo programma è utilizzato e che di conseguenza la finestra relativa a questo programma è aperta. Anche se non la vedo. Nel mio caso è OBS Studio che è il programma che sta per me registrando questo video. Quindi è rimpicciolito, non si vede, ma lo sta facendo. Quindi la barra delle applicazioni qui sotto ci aiuta tanto a capire che cosa sta facendo il nostro computer perché ci segnala tutte le finestre aperte. Ora vado a chiudere con la X documenti e vedrò che questa segnalazione andrà a spegnersi. Proviamo, premo con la X ed ecco che la mia finestra si è chiusa e me ne rendo conto anche guardando la barra delle applicazioni. Ok, stavo guardando la finestra documenti e quindi qui si era illuminata l'icona della finestra documenti. Ora vado ad aprire il cestino, premo due volte sul cestino, ecco che si apre il cestino, qui mi viene segnalato cestino, documenti prima era scritto qui, questa volta cestino è scritto qui, non è un problema. Sulla barra delle applicazioni mi viene sempre data l'informazione, quindi che sia qui a sinistra, che sia al centro, non importa, so che devo guardare là sopra per sapere di quale finestra si tratta. il cestino in questo caso è vuoto ed è molto importante che lo sia, lo vedremo anche noi più avanti, e sotto, sulla barra delle applicazioni, si è illuminata ancora la stessa icona, lo stesso segnalatore di prima. Come? Per cestino lo stesso segnalatore della finestra documenti? Sì, in questo caso sono due finestre dello stesso genere, sono due finestre di sistema che guardano all'interno del mio computer, quindi per tutte queste finestre viene utilizzata la stessa icona per segnalarmelo. Quando invece utilizzo finestre di tipo diverso, si illuminano, si accendono icone diverse qui sotto sulla barra, e se queste icone non sono già presenti sulla barra, ne appare una nuova. Proviamo. Vado sulla X, anche col cestino, un clic col tasto sinistro, la finestra si chiude, la barra delle applicazioni mi segnala che ora questa finestra non è più in uso. Ora voglio aprire un programma diverso. Apro Microsoft Word, il programma che serve per scrivere a computer e sarà oggetto prossimamente di nuovi video. Andiamo qui sul menu di avvio, premo, ancora noi non abbiamo mai utilizzato il menu di avvio, eccoci, lo approfondiremo in seguito, ma per adesso vado qui a premere Word. Sul mio computer si va qui, quindi faremo tutto questo discorso in un secondo momento. Ora restiamo focalizzati sulle finestre. Apro questo programma, in questo caso mi basta un clic solo, perché sono sul menu di avvio che è una barra, che è una pulsantiera, quindi in questo caso un clic solo del mio tasto sinistro del mouse, premo, si apre Microsoft Word, si apre la finestra di Microsoft Word, che in questo caso riempie tutto quanto lo schermo. Quindi non mi rendo conto che è una finestra, perché vedo riempirsi tutto lo schermo, ma di fatto è una finestra. Qui in alto ho la barra del titolo, che in questo caso non è blu, ha un aspetto diverso, ma riporta la dicitura del nome della finestra. Questa è la finestra di Word. Qui in alto a destra vedo la X. Questa X è quella che ci permette di chiudere le finestre. Sotto sulla barra delle applicazioni, ed è qui che volevo farti vedere questo, proprio sotto di me, qui, si è illuminata l'icona di Microsoft Word, ma non si è solo illuminata. È apparsa. Prima non c'era. Andiamo a vedere. Quindi ora chiudo con la X, un click col tasto sinistro è una finestra e quindi anche se è una finestra di tipo diverso, anche se è una finestra che contiene cose diverse, Word, in questo caso, è comunque una finestra e si utilizza al pari di tutte le altre. Quindi un click con il tasto sinistro del mouse sulla X, si chiude la finestra e qui l'icona di Word non c'è più. Andiamo a vedere di nuovo. Menù di avvio, Word, un click perché questa è una barra, è una pulsantiera, teniamo d'occhio qui sotto di me la barra delle applicazioni, premo ed ecco che appare l'icona di Word a segnalarmi che sto utilizzando il programma Microsoft Word che di conseguenza è aperta la finestra che lo contiene e quindi guardando il mio computer io posso rendermi conto di che cosa sta facendo. Una buona cosa da fare e da sapere è questa. Quando sto per spegnere il computer, quindi mi appresto a spegnere il computer, dovrei guardare sulla barra per sincerarmi che non ci siano finestre aperte, un po' come quando esci di casa. Quindi prima di spegnere il computer chiudo tutte quante le finestre. Cosa succede se mi dimentico di fare questa cosa? Succede che il computer le chiude lui. Non può chiudersi con delle finestre aperte. Per cui ci pensa da solo. Però alcune volte non lo può fare senza il tuo consenso. Per cui capita che delle volte il computer sembra non volersi spegnere, ci chiede delle cose, funziona male, non capisco, ho chiesto di spegnerlo e non si spegne. Perché tu hai dimenticato di chiudere le finestre e lui non può chiuderla di sua iniziativa perché magari ti farebbe perdere del lavoro perché non hai registrato, non hai salvato quello che hai creato e quindi se lui si spegnesse così e chiudesse la relativa finestra tu perderesti del lavoro. Quindi è una buona cosa riuscire a ricordarsi di chiudere tutte le finestre prima di spegnere il computer. Ok, torniamo a concentrarci al 100% sulle finestre. Apro il mio cestino. Questa cosa vale per tutte le finestre quindi ne prendiamo una qualsiasi cestino ce lo abbiamo tutti. Premo due volte. Il contenuto del cestino può essere di volta in volta diverso. Il contenuto del tuo cestino sarà diverso rispetto al mio in questo momento ma non interessa la finestra. La finestra con la barra del titolo che riporta cestino con i pulsanti che ci permettono di gestirla. Allora sappiamo che la X chiude il cestino e lo vediamo anche perché io porto la freccia lì sopra e per qualche istante appare una scritta. Ora se tolgo la freccia e ritorno sulla X e poi sto fermo per qualche istante esce una scritta che mi anticipa quello che fa quel pulsante. Questa cosa avviene quasi sempre per cui tante volte anche se non so a cosa serve un determinato pulsante posso andare lì lasciare la freccia e cercare di capire a cosa serve. In questo caso il mio quadrato qui dice ingrandisci vediamo se lo dice ancora ingrandisci vuol dire che se premo lì presumibilmente la finestra si ingrandirà o qualcosa si ingrandirà. Andiamo a vedere premo una volta sola perché è un pulsante al pari della X è un pulsante non diventa rosso ma diventa di un azzurro più chiaro nel mio caso un clic col tasto sinistro e ingrandisco la finestra ecco che ora questa finestra è grande come quella di Microsoft Word che avevamo utilizzato prima per cui quel tasto ingrandisce la finestra a tutto schermo perché si ingrandisce una finestra a tutto schermo perché ovviamente una finestra grande ci permette di vedere meglio il contenuto se questa finestra contenesse tante cose il fatto di averla più grande mi permette di vedere meglio quello che contiene e quindi di riuscire a lavorare meglio per cui ricordiamoci di ingrandire le finestre e quindi le teniamo sempre tutte grandi e si vede meglio quello che c'è dentro no delle volte abbiamo bisogno di vedere il contenuto di una finestra ma ci serve anche vedere quello che ci sta in parte subito fuori perché magari devo interagire con il contenuto della finestra e anche con un qualcosa al di fuori di essa per cui mi serve un tasto che rimpicciolisca la finestra in modo tale da poter vedere sia il dentro che il fuori e il tasto in questione è sempre lo stesso è sempre questo tasto quello accanto alla X la X chiude sempre il tasto centrale cambia a seconda della condizione se ci vado sopra questa volta mi dice che ripristina giù che è un modo strano è una traduzione strana per dirci che riporta la finestra alle stesse dimensioni di prima prima era di una certa dimensione poi l'abbiamo ingrandita ora il computer ricorda qual era quella dimensione e premendo nuovamente sullo stesso tasto che ora ha cambiato simbolo quindi tasto con simbolo diverso fa una cosa diversa vado e premo ed ecco che la mia finestra è tornata alla misura di prima quindi ho potuto diminuire la grandezza della mia finestra e ora posso vedere anche quello che ci sta attorno certo io avrei bisogno di vedere le cose che ci stanno attorno ma qui sulla sinistra purtroppo la mia finestra si era impicciolita ma copre tutte le icone avrei bisogno di spostarla quindi piccola mi va bene ora però ho bisogno di spostarla come facciamo andiamo in un punto qualsiasi della barra del titolo quindi su questa striscia che nel mio caso è blu tranne che sui pulsanti perché i pulsanti eseguono il loro compito quindi in un punto vuoto della barra tengo premuto il tasto sinistro del mouse e faccio una cosa per noi nuova trascino tenendo premuto il tasto sinistro del mouse sposto la finestra dove mi pare ecco che la finestra si sposta la sposto qui sulla destra lascio andare il tasto sinistro del mouse e ora ho spostato la finestra e quindi ho liberato la vista per vedere le icone che ci stavano sotto ora questa finestra viene memorizzata in questa posizione quindi se premo il tasto in mezzo per ingrandire la finestra si ingrandisce se premo il tasto in mezzo per ripristinare giù come viene chiamato qui nella traduzione la finestra torna in questa posizione se chiudo la finestra e poi riapro la finestra la finestra si riapre delle stesse dimensioni e nella stessa posizione di prima quindi il computer il vostro Windows 10 in questo caso memorizza tutte le volte la posizione della finestra pensando che sia una tua preferenza se hai lasciato la finestra così quando te la ridò te la ridò così se voglio che Windows 10 mi dia il cestino grande tutto perché a me piace di più lo devo ingrandire e poi chiudere ora quando andrò a chiedere il cestino lo troverò ingrandito al massimo eccolo qua quindi questo è il mio cestino sono curioso di vedere se anche documenti sarà ingrandito al massimo proviamo premo due volte sì in questo caso questa finestra che è una finestra di sistema abbiamo detto quindi documenti e cestino sono finestre dello stesso tipo mostrano il contenuto del computer anche se è un contenuto diverso quello di prima era il contenuto del cestino questo di adesso è il contenuto di documenti cioè le mie cose quello che io ho scritto e creato col mio computer e vedremo in seguito ovviamente come fare però la finestra è dello stesso tipo e quindi ha le stesse impostazioni mi viene riproposta la finestra nella stessa posizione e delle stesse dimensioni di cestino in questo caso torno a rimpicciolirla ed eccola qua a questo punto chiudo con la X e sono curioso di andare a vedere la finestra di Microsoft Word per vedere se lavora allo stesso modo era talmente diversa che quasi sembra impossibile per cui vado nel mio menu di avvio apro Microsoft Word e ho aperto Microsoft Word ripeto ma potrei aprire un qualsiasi altro programma per vedere questa cosa eccomi qua con Microsoft Word questa finestra è già tutta grande trovo il tasto accanto alla X che dice ripristina giù allora lo premo ed ecco che ora Microsoft Word è più piccolo mi rendo conto ora che effettivamente è una finestra e se vado qui sulla barra del titolo in un punto vuoto anche se non è blu premo e tengo premuto questa finestra viene con me e io la posso spostare anche parzialmente fuori dallo schermo ma di questa cosa ci occuperemo nel prossimo video quindi ecco che anche questa finestra viene gestita allo stesso modo perché è comunque una finestra la chiudo così per cui la prossima volta mi si riaprirà in questo modo andiamo a prendere una finestra che magari puoi usare anche tu magari non hai Word nel tuo computer andiamo a prendere questa finestra si chiama Paint se noi andiamo a far scorrere tutta la nostra barra quindi io sono andato sul menu di avvio ho premuto ho posizionato la freccia in questa posizione quindi su questa lista questa è la lista di tutti i programmi e approfondiremo poi faccio girare la rotella vado in ordine alfabetico sto andando a cercare un Paint Paint che è il programma che serve per disegnare vediamo se lo troviamo in ordine alfabetico alla P in questo caso c'è Paint 3D che non è proprio quello che cercavo io ma andiamo con questo anche questo è un programma che abbiamo tutti serve per scrivere premo si apre questo Paint 3D eccolo qua è una finestra ora all'interno è scura perché mi chiede che cosa voglio fare vabbè gli dico voglio un nuovo un nuovo foglio per disegnare anche se a me interessa la finestra quindi vediamo se posso ignorare questa dicitura e rimanere concentrato sulla finestra qui c'è la barra del titolo c'è scritto senza titolo questo disegno che sto per fare non ha un titolo devo ancora crearlo però il programma si chiama Paint 3D se io premo sulla barra del titolo e muovo ecco che questo programma quindi questa finestra perché di fatto è una finestra viene con me ecco che se premo sul tasto centrale ingrandisco la finestra la X eventualmente lo chiude e il tasto in mezzo ripristina la finestra alle stesse dimensioni di prima quindi questa cosa vale per tutto come vale per tutto che anche la barra delle applicazioni mi segnala che ora ho Paint 3D aperto se guardo qui sotto di me c'è un'icona nuova che è quella di Paint questa icona ci dà l'occasione di provare il terzo pulsante questo pulsante si chiama riduci a icona vabbè lo premo una volta sappiamo ormai che dobbiamo fare un clic solo perché è un pulsante premo il tasto sinistro e ho chiuso il mio programma Paint in realtà non è così non è così perché il tasto chiudi è la X poi ho visto il Paint che si rimpiccioliva e spariva sulla barra delle applicazioni diciamo ho visto io ormai so che è così e quindi mi è più facile però abbiamo visivamente visto il programma che scompariva fievolendosi verso la barra delle applicazioni e se guardiamo qui sotto di me sulla barra delle applicazioni vediamo che quell'icona l'icona di Paint c'è ancora ma soprattutto ha la righina sotto nel mio caso azzurra ad indicare che la finestra è ancora aperta solo che è in background si chiama vuol dire che la finestra è stata rimpicciolita non la vedo ora sta lavorando senza essere vista in background così come OBS studio che sta registrando questo video per me per cui se io rivolgo avere il mio Paint premo qui ed ecco che trovo di nuovo il mio Paint certo se io avessi chiuso la finestra e poi avessi riaperto il Paint da qui lo avrei ottenuto ugualmente però non è la stessa cosa mi spiego meglio allora io chiedo un nuovo foglio sono qui chiedo un nuovo foglio di lavoro e voglio disegnare qualcosa mi prendo un pennarello mi prendo un colore ora non so bene come si disegna ma prendo una forma 3D voglio disegnare un cilindro vediamo ok e qui ho questo questo cilindro che posso ruotare un po' perfetto benissimo se io ora chiudo con la X questo disegno scompare viene buttato via perché la X dice chiudi il programma e in quel caso perdo tutto quello che ho fatto se invece riduco a icona premo non succede niente il programma e quindi il disegno viene messo da parte io posso fare un'altra operazione posso andare ad aprire Word quindi vado ad aprire Microsoft Word perché magari devo scrivere qualcosa devo controllare un documento faccio quindi un altro lavoro quando ho finito di fare questo lavoro chiudo Word e vado qui sulla barra delle applicazioni faccio un click col tasto sinistro e ritrovo l'attuale lavoro ritrovo il mio disegno e posso da qui proseguire a lavorarci se invece lo chiudo con la X ripeto in questo caso perdo il mio lavoro tant'è che il computer mi avvisa e mi dice ma attenzione stai per chiudere senza salvare il tuo lavoro lo vuoi salvare per adesso dico non salvare ci occuperemo di questa cosa del salvare più avanti perché è molto molto importante allora dico non salvare per adesso mi interessava questo concetto quando apro una finestra quale che sia io posso posteggiarla con il riduci a icona sulla barra delle applicazioni questa volta è andata a scomparire in questa posizione eccola qua senza chiuderla la posteggio perché così non perdo il lavoro che stavo facendo con quella finestra ma semplicemente libero lo schermo libero la vista per poter fare dell'altro quando quella finestra tornerà a servirmi vado sull'icona che la rappresenta sulla barra delle applicazioni premo e vedo la mia finestra bene a questo punto ci fermiamo qui abbiamo visto i tre pulsanti la X chiude il tasto in mezzo ingrandisce oppure ripristina una finestra e il meno diciamo la riduce a icona abbiamo visto che una finestra si può spostare a piacere nella posizione desiderata ma vedremo che ci sono altre cose che una finestra può fare e altri modi di utilizzo della stessa e sappiamo ora che è molto importante riuscire a gestire comodamente le finestre perché questo ci permette di lavorare in maniera comoda e funzionale ti do appuntamento al prossimo video nel frattempo come sempre ti invito a mettere un mi piace a questo video se ti è piaciuto a commentarlo se hai qualcosa da chiedere ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto attivando la campanella trovi la voce iscriviti sotto a questo video in questo modo sarai avvisato all'uscita del nuovo video e ora puoi anche abbonarti al nostro canale c'è sempre il pulsante abbonati qui sotto il video e grazie all'abbonamento potrai vedere i video riservati agli abbonati anche del corso base 2020 2021 che pubblichiamo sempre qui su youtube ci vediamo presto ciao ciao